E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qui è Rosso Sangue e quest'oggi parleremo e basta Ehm... praticamente ragazzi ho deciso di fare questo video perchè innanzitutto non sono a Palermo A Palermo e vivo che... vista che io vivo lì e pratica praticamente io ho cambiato casa E quindi per il fine settimana vado a Carini Ehm... vado a Carini Quindi quando io vado il fine settimana a Carini Cioè ci vado solo per ora il fine settimana Poi quando finisco la scuola mi trasferisco direttamente qui Infatti per ora qua non c'è tipo quasi niente Ehm... sto aspettando che arrivi alla stanzetta Che arriva tipo tra una settimana E quindi vi volevo dire che d'ora in poi non sempre Soltanto il venerdì, il sabato e la domenica se caricherò Caricherò credo molto probabilmente questa casa E magari qualche giorno faremo qualche challenge Perchè ho il... un attimo Il terrazzo Quindi un attimo ragazzi E ragazzi stavo dicendo che praticamente io d'ora in poi farò il fine settimana Se caricherò cioè il venerdì, il sabato e la domenica In questa casa molto probabilmente lo farò Perchè alcune partite si faranno Cioè il sabato... c'è il venerdì, il sabato e la domenica Diciamo che fanno tante partite Quindi la maggior parte del tempo caricherò qui Ragazzi Vi ho fatto anche... ho fatto anche l'altro video Che spero che avete visto Che ho fatto un video di 14 minuti Non è il mio tipo Perchè come state vedendo questo video durerà tipo massimo 5 minuti Che praticamente facevo vedere tutte le figurine che ho Molto probabilmente porterò altro contenuto di questo tipo Perchè mi sta piacendo tanto E dobbiamo arrivare ai 15 iscritti Iscrivetevi anche su Ant e Manfri Cosa importantissima Lasciate like E ammaccate la campanellina ragazzi Non vi costa nulla E seguirmi su Instagram Anto trattino basso cs09 E niente ragazzi Per questo video è tutto Iscrivetevi, lasciate like Come ho già detto poco fa E niente Bella